Durante il giorno la città di Lanciano, secondo il presidente Luciano D'Alfonso, diventa una città più grande, la città dei servizi per tutto il territorio. E questa è in estrema sintesi la ragione che ha spinto la regione Abruzzo a finanziare il progetto Tram Urbano a Lanciano sul binario della memoria, quello della Sangritana, e grazie alla tua Lanciano avrà entro fine anno il suo tram che collegherà Marcianese a Santa Rita, che pian piano arriverà con ulteriori spese fino a San Vito passando per Treglio. Presentato ieri pomeriggio nelle ex officine della Sangritana, il progetto La mobilità del futuro sul binario della storia, progetto Tram a Lanciano. Un progetto ambizioso certo, ma che è già in cantiere e che presto sarà una realtà. Il trasporto unico abruzzese ha dato un incarico al nostro gruppo di lavoro di fare un'indagine preliminare su quello che potrebbe essere il servizio di tram, che può essere realizzato utilizzando l'infrastruttura ferroviaria resistente ex-Sangritana all'interno dell'area urbana di Lanciano. Questa indagine ci ha consentito di capire qual è il bacino di utenza, qual è il numero delle persone che potrebbero essere interessate a un servizio di trasporto pubblico qualificato, ecologicamente valido e che, come abbiamo verificato, è in grado di avvicinare un servizio di trasporto pubblico a quasi tutti i centri di interesse che ci sono nell'ambito di Lanciano, dalle scuole alla stazione vecchia e nuova, al centro storico piuttosto che al quartiere Santa Rita. Perciò, sulla base di questo, abbiamo potuto capire che questo progetto, soprattutto per il fatto di avere già un'infrastruttura esistente, quindi di poterla rimettere in funzione con una spesa di manutenzione sostanzialmente relativamente limitata, che è un grosso vantaggio che non tutti hanno, consente di avviare un progetto di mobilità futura su quello che abbiamo chiamato il binario della storia, perché è anche bello avere questa connessione fra un futuro e un'eredità storica che è stata fortunatamente preservata negli anni. Sì, noi abbiamo in corso un lavoro di riorganizzazione del trasporto pubblico locale. Dopo aver riorganizzato le società, adesso dobbiamo riorganizzare l'offerta del trasporto pubblico locale. Nel caso di specie, stiamo lavorando affinché le aree che sono nate negli anni 60-70, al ridosso delle città tipo le aree PEP, le ex aree PEP, oggi il quartiere Santa Rita in particolare, possa essere immediatamente collegabile con la città. È un problema antico, noi lo vogliamo risolvere attraverso la funzione del tram. In una prima fase si dovrà occupare proprio di collegare il quartiere Santa Rita con il centro, quindi il quartiere Santa Rita, Marcianese e Lanciano. Domani l'obiettivo è estenderlo verso Castelfrentano e verso San Vito, dandogli un cadenzamento, cioè ogni mezz'ora i cittadini potranno avere la fermata del tram. Questo significa cambiare le abitudini di vita e soprattutto finalmente rendere una città moderna, ma non solo una città, un territorio. Noi assorbiremo le tratte che noi oggi facciamo, per esempio da San Vito a Lanciano, domani quando sarà, o attualmente da nell'ambito della città. È chiaro che facciamo un investimento sul tram e risolviamo il problema, per esempio, del transito sulle gomme. Questo vale sia per il traffico, sia per l'inquinamento. Ed è una nuova soluzione che credo la città di Lanciano aspetti da molto, ma non solo la città di Lanciano, anche il territorio frentano. Costi e tempi? Più o meno 3 milioni e 600 mila euro, di cui noi abbiamo 3 milioni già disponibili, 600 mila euro già derivanti da economie per altri lavori. Adesso dobbiamo fare la gara per acquistare il tram e per metterlo in esercizio. Ma la decisione è stata assunta. Ancora una volta il futuro della regione Abruzzo passa attraverso il ferro, come ha detto la settimana scorsa in conferenza stampa. Passa attraverso il ferro e passa attraverso la mobilità. Nel caso di specie noi abbiamo optato per un tram che non abbia la caratteristica del ferro, perché è molto più costoso l'esercizio ed è molto più costoso il mezzo, ma che abbia la velocità e che possa fare le fermate anche in modo capillare, in modo tale che si arrivi ad una soluzione. Insomma, penso a Milano, dove circolano i tram, quella sarà la soluzione anche per Lanciano e la sua zona adiacente, ma poi per le zone che stanno nelle prossimità di Lanciano. Questo significa cambiare la vita alle persone, ma non solo agli studenti, ma anche agli anziani che devono recarsi e che non sanno mai a quale orario c'è per andare, per tornare, avranno un cadenzamento ogni mezz'ora per andare e venire dal proprio centro e quindi arrivare ai servizi che una città-territorio come Lanciano eroga.